in pratica e mio nipote ha comprato questo manga di goldrake e ma non so se è quello che possiedo io ma non credo però è adesso lo confrontiamo insieme e quelli che io sono questi in pratica super robot wars il grande mazinga great mazinga e questo invece goldrake ovviamente ho anche giga robot ma questo è un altro discorso allora in pratica quello di goldrake io e questo quello di mio nipote questo vediamo subito magari dalla prima pagina come si intitola la puntata al capitolo l'uomo venuto dallo spazio l'uomo venuto dallo spazio questi invece di mia nipote il ragazzo venuto dallo spazio a secondo me sono le stesse cose allora adesso confrontando vediamo subito la seconda pagina è questa seconda pagina vediamo subito sì mi sembra che la stessa cosa sì secondo me è la stessa cosa si è la stessa cosa la terza è questa che si sia uguale sì ho capito identico si cambia soltanto in pratica la copertina il titolo questo grandizer ufo robot grandizer questo è ufo robot goldrake però con i nomi quelli doppiati in italiano che noi conosciamo tutti i fatti di fatti scelsi questo più apposta perché preferivo avere i nomi che noi conosciamo grande mazinga goldrake qui presumo che ci sia sicuramente la traduzione anzi i nomi originali perché il nome originale grandizer o mazing great mazing cogi esatto così caputo sì secondo me in pratica si dovrebbero essere quelli con mazinga si i nomi originali allora è un'altra edizione si è un'altra edizione pubblicata dalla stessa casa editrice questo secondo me la successiva a questa questo l'ho acquistato una decina di anni fa questo non so quando è uscito credo abbastanza recentemente vediamo subito vediamo dove era data del 75 l'anno originale però la stampa italiana quale sarebbe vediamo non c'è una data vediamo subito comunque va bene penso che lo rileggerò volevo fare una nuova recensione scritta però ormai visto che ho fatto già questo allora non mi sembra neanche il caso però lo rileggerò bella bell'edizione comunque ben curata con alcune immagini e colorate come questa il resto come sapete benissimo e tutti in bianco e nero stampato da destra a sinistra all'orientale alla giapponese e poi la parte finale così tutti in bianco e nero invece quello che io la prima edizione con nomi però tradotti in italiano goldrich non grandizer e tutto in bianco e nero tutti in bianco e nero sì a parte questa cartolina che non c'entra niente e tutti in bianco e nero sì bello comunque in pratica possiedo questo di mazinga con alcune pagine a colori come questo secondo me sì dello stesso periodo poi super robot wars tutto in bianco e nero mi sembra sì bianco e nero gigobot d'acciaio in due volumi in due volumi eccolo qua tutto in bianco e nero però questo è stato stampato all'occidentale da sinistra a destra perché evidentemente precedente a questi come come stampa diciamo gigobot eccolo qua bello è bello rispolverare queste cose e rivederle e qui ovviamente ci sono anche le mie videocassette originali gli ufo robot contro gli invasori spaziali mazinga contro gli ufo robot eccetera per ora è tutto amici alla prossima grazie a tutti